Marta, la facciamo con l'ombrello? Sei pronta? Prima, un attimo Mai dentro Ok 3, 4, 3 Dai, dai, che ce la facciamo, pazza Vieni, dobbiamo cercare il numero 33 No, il 33, vieni tutti, vieni, vieni e si parli Bravissima, ok Ah, ho diventato male la cartina 3 E adesso il 4 è giù, dobbiamo scendere No, è lui, è lui, vai, vai dentro Ok Ok, faccio, ecco No, per questa 36, ecco, guarda Ok Adesso dobbiamo andare qui a destra A cercare il 38 Dai, doppia, vieni Dai, che ce la facciamo, andiamo, andiamo L'abbiamo trovato L'abbiamo trovato Ok Ok Cosa? 49 Giusto? Cosa? 39 Dai, dentro E al contrario, è giusto Ok Arriviamo a essere Oggi un po' che ce l'ha più 40 Sì, è la rovescia, ma è 40 Vai Bravissima Ciao Dai Chiara, forza Siamo, marza Dai che arriviamo prima della Chiara Dai Dai Non so, il 42 è l'ultimo Vai su per il prato, vai Su Vai Fino in fondo, eh Fino alla pianta Dai che abbiamo finito Ecco Bravissima Tutto giusto? Abbiamo sbagliato qualcosa Tutto giusto Marta, tieni Vai a riavola E poi cosa faccio? Te la sento da più Vai Cari Fino Credo Vai Cuo 전� anschiamo Troppo Antica Conti